Carabinieri e Polizia Municipale, Piazza della Badia è stata letteralmente presidiata nell'ultimo fine settimana ad Arezzo. Dopo quanto accaduto una settimana fa con schiamazzi, bisogni fatti per strada e una porta rotta, questo weekend ci sono stati i controlli delle forze dell'ordine. Quattro pattuglie nello specifico dei militari dell'arma e una della Polizia Municipale nella notte tra sabato e domenica. Controlli peraltro non solo in Piazza della Badia ma anche in gran parte del centro storico. Le zone obiettivo del controllo spiegano i carabinieri in una nota ufficiale che certamente verrà ripetuto nelle prossime settimane sono state in particolare quelle di Piazza della Badia, delle strade immediatamente vicine, via Cavour, via del Saracino, via Saffi, via Pecori e via della Fioraia allargandosi poi anche a Piazza Sant'Agostino, Piazza San Francesco e via Guido Monaco. Alcune di queste strade sono state anche oggetto di segnalazioni da parte dei residenti che hanno riferito di particolari episodi di degrado urbano e di comportamenti potenzialmente pericolosi relativi alla violazione della normativa anti-Covid. A coagli uvari i controlli anche un'unità cinofila dei carabinieri di Firenze per la ricerca di stupefacenti. In tutto tre gli esercizi pubblici controllati e 50 persone. Alla fine tre le denunce. Un uomo di circa 40 anni per il reato di falso materiale è stato trovato alla guida di un'auto con targhe false, un quarantenne e una cinquantenne entrambi segnalati per guida in stato di ebrezza.